c'è gente sotto di me non so quanto sotto ma non ci sono le scale o c'è uno sul tetto raga l'ha fatto è pure la taglia attenzione o sono fantasmati no sta sotto dove sto io non li pinga ma c'è gente sotto di me raga siete voi ma no sono sotto qua raga sono sotto di noi qua ragazza hanno attenzione 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 qua dove stai il tuo ping toni ti tolano infatti sto soffrendo grande abbiamo gente sotto qua comunque ragazzi sono qua sotto qua dentro nella finestra erano quelli della taglia quanti cazzo di soldi abbiamo attacca il grappolo con la pala uab stiamo in due è andato caricano c'è uno qua sotto e stiamo sale di gente in casa qua è perché se c'è la maschera ragazza non è che dobbiamo spostare da dietro da dietro oh no no eccolo oh mi sparano maschi siamo negati qua no frate ma Dovevamo ucciderci. Sono il Redder, l'unico che è rinato.